Le foglie matte si lasciano andare, dal soffio del vento si fa trasportare. Quella gialla gioca a palla, quello marrone fa un bel stuzzolone, mentre quella rossa fa un gran corsa, quell'arancione vuole come un aquirone. Solo quella verde si intiene per fretta, perché per cadere non ha proprio fretta.